Eccomi qua, siamo venuti per poco, perché per poco si fa. Buongiorno a tutti, insomma si festeggia le dieci anni del Berretto Assonagli con la regia di Francesco Bellomo, protagonista assoluto Gianfranco Giannuzzo nel ruolo di Ciampa e Gaetana Ronica nel ruolo di Fifi la Bella, un ruolo che ho ricoperto storicamente rifacendomi a quella grande interpretazione di Stefano Santa Flores indegnamente ma ho accettato l'invito veramente con grande gioia perché questi dieci anni ci hanno uniti tantissimo uno spettacolo che è rimasto nella storia, uno spettacolo che tra l'altro servirà anche a festeggiare un evento forse altrettanto importante se non di più, i 155 anni dalla nascita di Luigi Pirandello dunque questi due eventi in uno per festeggiare forse anche la storia di grandi amicizie artistiche noi che giriamo per il mondo, che ci buttiamo da una parte all'altra devo dire che io allora lasciai lo spettacolo a un certo punto per andare a lavorare in televisione non potevo farne a meno, ero stato chiamato da Netflix naturalmente dovete fare una scelta anche dolorosa per cui riprendere oggi le fila di quel discorso con questi grandi professionisti è per me motivo di orgoglio e di soddisfazione e per questo motivo vi invito tutti il 25 giugno al Caos, casa natale di Luigi Pirandello a vedere il Berretto Assonagli con Gianfranco Liannuzzo, l'ogia di Francesco Bellomo e Greta Naronica nel ruolo di Fifi la Bella grazie a tutti